Ebbene sì, mi confesso, sono stato un biglignano. In realtà la maggior parte di voi lo sa già, l'ho detto diverse volte in live, non è mai stato un segreto. Ma forse è arrivato il momento di mettere tutto questo in un video. Ho aperto questo canale all'incirca sei anni fa e a quel tempo ancora biglignavo. Anche se le teorie paleoastronatiche non sono mai state argomento di video. Questo perché ero già entrato probabilmente nella fase del dubbio. Fase pericolosissima per ogni credente. Perché credenti è esattamente ciò che sono i fautori della paleoastronautica. Credono alla teoria degli antichi alieni senza la benché minima prova della loro esistenza. Tutto funziona grazie all'interpretazione dei testi antichi, degli antichi miti, che hanno in comune con i credenti classici. Ovvero considerare quei racconti come fatti realmente accaduti. Cronaca storica. Di solito il credente classico, quello delle religioni, giustifica le contraddizioni del proprio testo sacro di riferimento, le incoerenze, le assurdità, le falsità storiche, con un semplice tutto è possibile addio. O l'evergreen mistero della fede. Questo perché quel testo per loro contiene la verità. Dello stesso avviso solo i paleoastronautici della nuova scuola del maestro Biglino. Ha testato o rilasciato solo dopo 25 lezioni. Anche per loro quel testo contiene la verità, ma senza metafore al suo interno. Tutto ciò che viene scritto è da considerarsi accaduto veramente. L'asina disse a Balaam, non sono forse io l'asina sulla quale hai cavalcato fino ad oggi? Dannati alieni muta forma. Il passaggio successivo è facile e veloce. Senza senso, ma facile e veloce. Scartano Dio e sostituiscono la sua figura con alieno cattivo. Il gioco è fatto. Così restano attaccati ad un libro che ritenevano importante quando erano credenti. Credo infatti che la maggior parte del pubblico di Mauretto Zero Titoli sia composto da cattolici delusi. Gente che smettendo di credere a un Dio non è riuscita ad abbandonare la piaga del pensiero religioso. Non hanno più un Dio creatore. Hanno un alieno creatore. Che è un po' come lavasse il culo con sapona a merda. Non ti stai veramente lavando. Ma per capire bene di che cosa stiamo parlando bisogna fare degli esempi. Testo alla mano. Nel giorno in cui la dimora fu eretta, la nube coprì la dimora, ossia la tenda della testimonianza. Alla sera essa aveva sulla dimora l'aspetto di un fuoco che durava fino alla mattina. Nel libro dei numeri, e non solo, viene descritta la nube del Signore. Essa dimora sopra la tenda, poi si alza in cielo e il popolo la segue. Per un credente questa è la manifestazione di Dio che guida il popolo. Per un biglieniano questa è la descrizione dell'astronave dell'alieno cattivo che con i suoi razzi propulsori emette fuoco e fumo bruciando combustibile. Praticamente c'è uno lufo a miscela, capito? Ogni tanto si fermava fa benzina. Nella Bibbia ci sono degli episodi tanto cari a Biglino riguardo la gloria di Dio. La lettura teologica riguardo questa gloria vede la potenza della divinità, a cui spesso vengono attribuite delle caratteristiche come fuoco divampante, rumori forti, una potenza delle forze naturali. La lettura paleastronautica ci vede un mezzo pesante guidato dall'alieno Dio. Il trucco qui è molto semplice, al di là del significato del termine. Biglino prima instilla nei suoi lettori che cosa significa kavod, la parola ebraica che viene tradotta con gloria, ovvero l'ufo guidato da Yahweh. Poi dice, fingendo neutralità, ogni volta che nella Bibbia troveremo scritto gloria, leggiamo kavod, senza tradurlo, e vediamo che esce fuori in base al contesto. Metodo che dire è ridicolo e dire poco. Cioè dovrei leggere un testo tradotto e adattato in italiano senza tradurre l'unico termine su cui prima hai fatto speculazioni. Un tantinello forzato. Ma non importa che lo sia, la gente ci crede. E ci crede perché è ignorante in materia e non spende neanche un secondo del proprio tempo per andare ad ascoltare un'altra campana lontana dalla saggezza del proprio profeta. Biglino invita sempre i suoi ad andare a leggere la Bibbia che abbiamo in casa, ma quanti sono quelli che effettivamente la vanno a leggere oltre i passi che lui indica loro? Vediamo che succede se si inizia a leggere la Bibbia con il metodo Biglino uscendo fuori dal recinto. Così sostituirono la gloria di Dio con la figura di un bue che mangia l'erba. Così sostituirono il kavod di Yahweh con la figura di un bue che mangia l'erba. Cioè gli hanno spadinato un ufo, gli hanno rubato, e indossato a parcheggiato ci hanno messo un bue, così per confonderlo. È gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria dei re sta nell'investigarle. Cioè qui si sta chiaramente parlando di due modelli di ufo a confronto. È kavod di Yahweh nascondere le cose, perché c'ha l'astronave grossa, capito? C'ha l'ufo SUV. Se te si mette davanti tu non vedi oltre, capito? Nasconde. Ma kavod dei re sta nell'investigarle. Cioè i re c'avevano l'ufo carattrezzi che serviva per rimuovere l'ufo SUV di Yahweh quando posteggiava male. Tua signore è la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore e la maestà. Qui leggiamo infatti che il signore era in possesso appunto di potenza, grandezza, un ufo, splendore e maestà. Tutte cose che gli hanno restituito al gabbiotto dopo che è uscito dalla galera. Perché a quei tempi quando posteggiavi male l'astronave ti mettevano subito al gabbio, eh? Questo rende chiaro che i suoi seguaci non leggono la Bibbia, altrimenti si sarebbero già resi conto che il suo giochino non funziona. I paleastronautici sono esattamente come i credenti base che non leggono la Bibbia se la lasciano leggere dal prete. Inoltre Biglino quando traduce spesso lo fa a modo suo. Ad esempio usa delle vocalizzazioni diverse per far quadrare i conti. Essendo l'ebraico biblico una lingua fatta esclusivamente di consonanti, l'inserimento di vocali può far cambiare radicalmente il significato delle parole. Ecco, Biglino spesso queste le mette a suo uso e consumo. E quali titoli ha per compiere questa scelta? Nessuno. Come nessuno è il totale dei suoi fans che gli contesta questo. In contrapposizione con la totalità degli accademici di settore che ridono di lui. Ma se Biglino non ha nessun titolo per parlare di ebraico, perché si chiede pelo e contropelo a chiunque osa contestarli qualcosa? Vedrete, lo faranno anche nei commenti a questo video. Biglino stesso ha dichiarato che la sua formazione da ebraista si compone di 25 lezioni, il resto da autodidatta. Io non sono affatto un esperto di ebraico, ma non serve di certo un ebraista per capire che la paleastronautica è sbagliata sotto qualunque punto di vista. È una fantasia. Comunque, dopo aver ristillato nei suoi lettori che la Bibbia descrive chiaramente l'intervento di alieni, è facilissimo giocare con la narrazione di quel testo. Ogni volta che leggono di qualche avvenimento materiale in contrasto con il dio spirituale della teologia cristiana, il biglieniano va a dormire e inizia la sua fase di polluzioni notturne sugli alieni. Il signore fu con Giuda, che scacciò gli abitanti delle montagne, ma non poté espellere gli abitanti della pianura, perché muniti di carri di ferro. Per i biglieniani questo passo indica chiaramente che quel dio non è dio, ma un essere fisico che si trova in difficoltà a fronteggiare la tecnologia avanzata di altri alieni rivali. La teologia ha un'altra supercazzola per spiegare questo passaggio, ma né al credente classico né al credente paleastronatico viene mai in mente che in quel libro è possibile ci siano scritte cazzate. Perché la Bibbia non è un libro che racconta fatti realmente accaduti. L'Antico Testamento in questo caso è un libro di miti, un libro di propaganda, una storia che ha lo scopo di innalzare il popolo che se l'è scritta per darsi un'importanza, un'identità nazionale. E lo fanno nel corso dei secoli. A volte enfatizzano la loro disfatta per dare degli insegnamenti, a volte reinterpretano fatti storici a loro favore, a volte inventano e basta. Non è un libro storico. Mentre se invece applicassimo il metodo storico. Allora, una cosa importante da capire è che quando si analizza il testo biblico bisogna utilizzare le stesse metodologie che si usano per analizzare qualsiasi altro testo dell'antichità. Quindi utilizzare un metodo che cerchi di ricostruire il punto di vista dell'autore e dei lettori intesi di quel testo. Per fare questo si utilizzano una combinazione di critica delle fonti, critica delle forme, critica della storia redazionale, critica della tradizione nella quale il testo si va a inserire. Uno non può semplicemente prendere e dire, ok, in questo libro c'è scritto che l'imperatore Costantino andava in giro con la sua testa in mano a fare passeggiate, quindi allora l'imperatore Costantino era in grado di staccarsi la testa e c'è davvero un testo che dice una cosa del genere. No, bisogna fare un'analisi per la punto critica, capire l'intento dell'autore, il contesto in cui scriveva. Troppo lungo, mi ha fatto 28 minuti di video. Dicevamo, se applicassimo il metodo storico lasciando perdere le chiacchie da nerd del fantasy o della fantascienza? Beh, potremmo scoprire innanzitutto che tutte quelle sanguinose battaglie che vengono descritti nei libri di Giosuè fino ai libri di Re, il popolo di Israele non le ha mai combattute. In quel periodo, 1500 circa avanti Cristo, in quelle terre dove si stava stabilendo il popolo eletto, c'erano gli egiziani che rompevano il culo ai cananei. Il popolo di Israele semplicemente andava a razziare le città già cadute per mano degli egiziani o a prendersi quei piccoli centri ormai sprovvisti di difese. Attribuendosi poi nei testi scritti secoli dopo la vittoria su quei popoli da cui preferiva tenersi alla larga. Perché non avevano i mezzi per imporsi con la forza. Erano delle pippe in confronto ai popoli che già vivevano lì, tipo i mitanni che abitavano le pianure e possedevano carri rinforzati in ferro. O i famosi carri falcati già posseduti dagli assiri e dai babilonesi. Cioè carri provvisti di lame in grado di falciare i nemici e fare stragi, soprattutto nelle pianure. Perché cazzo andavano gli israeliti? Il metodo con cui si compie uno studio o una ricerca è fondamentale. Fare finta che ignorando tutto il resto, ma solo seguendo una trama, va bene se vuoi scrivere un romanzo di fantasia. Altro giochino simile, Biglino, lo fa con il termine barà, che per lo showrunner Mauro significa soltanto fabbricare, modellare qualcosa che già c'è. Ma a Genesic c'è scritto che Dio fa i pianeti e le stelle. Erano così tecnologicamente avanzati da creare interi sistemi solari. E perché poi si mettono a fa' a guerra con i sordatini capeggiando armate ed umani per conquistarsi un fazzoletto di terra esclusivamente in Medio Oriente? Biglino infatti legge nel racconto delle origini non un racconto delle origini. Quando Dio crea la terra, il sole, il pianeta, lui ci vede la costruzione di una diga. Una diga che serviva a proteggere il paradiso terrestre che in realtà era un laboratorio di ingegneria genetica. Ingegneria genetica che serviva a creare, a fabbricare degli umani da usare poi come forza lavoro. Cioè tutta sta tecnologia manca un robot sanno fa' Cazzo mi fai il robot che ti fa da schiavo e non c'è manco il problema di emancipazione e ribellione. Anche perché in questo caso passeremo dalla Bibbia a Terminator. È interessante come in questi passi la lettura letterale vanto del metodo B non venga proprio applicata. Perché se chi scrisse il testo avesse voluto parlare di una diga, perché non ha usato il termine ebraico per indicare diga? Perché il testo che è sempre chiaro nella descrizione di cose e situazioni non lo è mai quando parla di alieni. Per non parlare del fatto che quel popolo o quei popoli che hanno vissuto con gli alieni per migliaia di anni i termini per poterli descrivere avrebbero dovuto acquisirli. Eppure mai viene detto che questi Elohim arrivassero da altri pianeti. Mai viene detto che il Cavod era un mezzo volante. Cioè ci sono i termini per dire tutto tranne quello che i credenti della paleastronatica vorrebbero che ci fosse scritto. Un altro cavallo di battaglia del professore del dottor Biglino, il professore dottore Deke, è ovviamente la parola Elohim. Tutti ormai avrete sentito il termine Elohim. La traduzione di Elohim è, non ci crederete mai oh, Dio, divinità. Tecnicamente è una parola costruita in plurale, dato la radice finale Im, che indica appunto il plurale nell'ebraico, e la forma singolare El o Eloha, che anch'essa significa Dio. El è la forma con cui le regioni del Medio Oriente più o meno indicavano il Dio dell'universo. Un Dio capo rispetto alle divinità minori e più nazionali. Questo aspetto enoteista, cioè una divinità superiore a capo di altre divinità minori, la troviamo anche nella Bibbia. In dei brani, in alcuni passi, di quei libri scritti prima dell'esilio babilonese. Successivamente, poi nel corso dei secoli, i libri che compongono l'Antico Testamento iniziano a diventare esclusivamente monoteisti. Questo perché, cari amici, che considerate Star Trek una narrazione troppo complessa e quindi avete preferito ripiegare in una più semplice come quella biliniana, La Bibbia non esiste. La Bibbia è un insieme di libri scritti in epoche differenti che rappresentano diverse forme letterarie o espressioni culturali. Alcuni singoli libri hanno al loro interno diverse tradizioni perché redatti e assemblati nel corso del tempo. Elohim, ad esempio, viene usata sia per indicare le divinità che per indicare i re, i legislatori, chiunque abbia una carica di una certa importanza. In alcuni casi è un plurale normale, quando si parla dei governatori. In altri è un plurale d'astrazioni, il plurale maestatis, come quando noi diamo del voi a qualcuno, nonostante questo sia un singolo individuo. Yahweh è l'Elohim, o l'Eloha in questo caso, di Israele, la divinità di Israele. E ogni popolo cananeo aveva la propria. Il fatto che la Bibbia menzioni altre divinità non è un mistero per nessuno. O meglio, è un mistero per quelli che escono dalla crisi, ma è come titolo di studio, c'hanno due anni di catechismo. Eh, ma queste cose a chiesa non ce le dice. Colpa vostra, che basate il vostro sapere su quello che dice la chiesa. Ma che vi aspettavate? Non è che ci potete avere sempre la pappa pronta e stare ben seduti a aspettare che qualcuno vi imbocchia la verità. Arsate il culo e andate a studiare. Biglino smonta la favoletta che raccontano i preti? Va benissimo! Ma chiunque fa un approccio storico critico alla Bibbia sa che quello che raccontano i preti è una favoletta. E questo approccio alla Bibbia si fa da più di 400 anni. Come dobbiamo considerare uno che va lontana dai favoli dei preti per raccontarvi una favola tutta sua? Che poi tutta sua, manco per niente, ha la fotocopia dei Sicci, dei von Daniken e altri prima di lui. Voi ringraziate Biglino solo perché siete ignoranti in materia biblica. Come ho fatto io in passato. Eppure, Biglino, è chiaro. Della Bibbia non sappiamo nulla. Né chi l'ha scritta, né quando l'hanno scritta. In più le traduzioni dall'ebraico antico è stata pilotata. La Bibbia è stata tradotta in maniera teologica per far emergere la figura di un dio per nascondere la verità. Cioè, antichi alieni che combattevano tra di loro nel passato. Alieni che in realtà sono i nostri stessi creatori perché siamo una razza nata nei loro laboratori. E qui ve risparmio tutta una deriva dei cazzate anti-evoluzionistiche perché se no famo notte. Comunque è incredibile come da in realtà non sappiamo nulla della Bibbia a in realtà sappiamo tutto, anche quello che hanno tentato di nasconderci. Ma, soprattutto, ma se hanno tentato di nasconderci la verità come mai secondo loro basta leggerla per scoprire alieni e ingegneria genetica? Cioè, hanno avuto a disposizione duemila anni per nascondere le tracce di questa inconfessabile verità? Oppure che hanno pensato Vabbè, ma chi tanto chi ha leggi? Ma nonostante loro siano i padroni del mondo che muovano le fila del nostro destino ormai da tempo immemore non hanno fatto i conti con un ex consulente finanziario che a 50 anni decise di prendere 25 lezioni private ad ebraico e poi continuare come autodidatta. Mauro, a detta dei suoi seguaci, vanta un'autorità incredibile, eh? Pensate che è stato niente po' po' di meno che traduttore del Vaticano. Così. Cazzo, un insider, una gola profonda che stanco di nascondere la verità a noi comuni mortali ha iniziato a parlare. Eroe. Come al solito ci troviamo di fronte a informazioni manipolate per dare un senso o far apparire cose che in realtà non sono. Biglino ha fatto delle traduzioni interlineari per le traduzioni San Paolo che non sono la casa editrice del Vaticano. Le traduzioni interlineari sono delle traduzioni vocabolario alla mano fatte parola per parola. Stile Google Translate quando funziona male. Capite che questo tipo di traduzione per certi versi scolastica serve a studiare la struttura grammaticale del testo. Non per capirne il senso. Lì va fatto un lavoro di adattamento. Lo potete vedere anche con le lingue moderne. Figurate con quelle antiche. Ma Biglino, a quanto pare, dove non si capisce, lui ci capisce l'alieni. Cioè, siamo passati da non lo so, quindi Dio, a bon se capisce un cazzo, quindi gli alieni. Questo come te lo spieghi? Mauro Biglino deve sicuramente il suo successo a una retorica d'impatto, a una capacità discorsiva importante, una fama infatti che ha raggiunto grazie alle sue conferenze. Ma anche a una tecnica manipolativa niente male. Ciò che inizialmente mi affascinò e mi catturò nelle sue spirali fu l'abilità di inserire delle nozioni storico-critiche al testo. Una bella spruzzata da anticlericalismo e un'analisi non confessionale alla Bibbia. Biglino infatti contestava i voli pindarici della teologia e ne metteva in evidenza le contraddizioni. Preso, ma aveva catturato subito. Tiè, guarda qua. Guarda i sordi che ci hai speso. Coglione. Vabbè, manca a far così però. Biglino ovviamente non dice solo cazzate ma mischia queste in maniera certosina cose vere. Quando fa critiche storiche al testo all'esegesi teologica sa tutte cose de' pubblico dominio. Cioè evidenze straconosciute a livello accademico. Ma di cui certo il grande pubblico non ha notizia. Figuriamoci credenti dei parrocchi ai cattolici delle tradizioni. Ma infatti dov'è che funzionano le Biglinate? Dov'è che un fautore della paleastronautica del metodo Biglino si sente un risvegliato nella verità? In oratorio. Lì vanno fortissimo, nei fermi proprio, eh? Se avete avuto a che fare con i fanatici del grande B spesso vi capiterà infatti di venire additati come complici della Santa Sede. Perché la loro è una visione polarizzata a o con Biglino o con la chiesa. Pronto? Santa Sede? Sì, salve. Sono Luca di Buonabibuddha. Salve. Volevo parlare con Chico. Ehi, Chico. Ciao, Chico. Sì, so io, so io. Sono Luca. Com'è? Tutto bene lì? Ah, stavi a fare la confessione a mamma mia? Ah, cito la confessione. A me mi viene di sdro. Ma ti pare che c'è la confessione? Non si chiama? Dai, ma per favore. Per favore. Senti. No, no. Ti sto a chiamare per un motivo. Stavo a fare la revisione dei conti. Niente di che. Ma mi risulta che la fattura 666 del 2019 non è stata saldata. Esatto. Quella di video di Biglino. Bravo. Noi avevamo detto 50.000 euro a video fare una decina di video voi mi davate una sorta di canovaccio mi dicevate bene o male quello che doveva dire poi io dovevo metterci del mio esatto e fa insomma è bravo esatto quello, quello, quello e no e non è stata saldata ancora vabbè sì, sì quella sì la 666 del 2019 eh vai gliela a dire a quel commercialista tuo a chi vi tiene i conti che c'avete e dite saldata facciamo dai vedo altri 60 giorni 60 60 mi sembra giusto no? no 7 volte 7 volte 7 tu madre no chico 7 volte 7 no dai pagamento ha 60 giorni però adesso non è pagato ok? dai bella zì dai sì sì torna a confessare ragazzina va bene va bene ci sentiamo ciao 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 vi diranno vi diranno che state difendendo la chiesa o che ragionate come i preti perché sanno porsi in contrasto soltanto alla teologia cristiana perché anch'essa forza il testo e attribuisce caratteristiche filosofiche moderne a una concezione di dio che quei popoli certamente non avevano del resto i fautori e gli autori della paleoastronatica attribuiscono concetti tecnologie moderne ad un testo scritto nel 600 e passa avanti Cristo è una guerra tra peragottari e fuffaroli infatti Mauro Biglino che non accetta confronti si è però gettato in una gangbang tra teologi osannato per questo suo match in cui secondo il suo fan club è uscito come l'unico vincitore in realtà più che un confronto è stata una conferenza dove ognuno sparava la sua interpretazione confessionale e mai Biglino in quel contesto ha avuto il coraggio di menzionare gli alieni le sue sono state soltanto timide ma anche legittime se vogliamo critiche alle dottrine che in effetti alla fine più che una gangbang era una sessione di autoerotismo dove ogni tanto qualcuno tirava una schiccara sul cazzo di un altro alla luce dei fatti o all'assenza completa dei fatti come in questo caso la paleastronatica non è altro che un'altra forma di complottismo dove c'è un nemico che tenta di manipolare la realtà come al solito con ridicoli stratagermi completamente inutili visto quanto è facile venire a conoscenza dei loro super piani segreti contrastati però da schieri di risvegliati di eletti di indomiti pensatori che combattono contro le forze del male per mostrare al mondo la verità che solo loro che so più intelligenti degli altri sono riusciti a scoprire perché i bilginiani e tutti quelli che foraggiano ste teorie alternative si chiamano e si definiscono liberi pensatori e a questo punto ho pensato che liberi pensatori significa proprio pensieri aria infusa così come te viene te viene c'hai qualcosa in mente? ah dici così senza prove senza nessuna base scientifica senza un metodo di ricerca sensato a cazzo di cane se mi permetti a cazzo di cane funziona sempre guarda non ci crederai ma funziona vai vai se la religione è l'oppio dei poveri la paleoastronatica è il metadone Viglino purtroppo non ha creduto abbastanza alle sue doti di sceneggiatore e si è messo a far divulgatore di fantastoria perché a livello esclusivamente narrativo la paleoastronatica è super affascinante ci si possono creare delle storie meravigliose tipo Assassin's Creed ma dopo più di 50 anni che la teoria degli antichi alieni della paleoastronatica è stata divulgata e i suoi massimi esperti e maestri fanno ricerche in proposito attualmente a oggi hanno portato zero prove che ne so avessimo mai trovato una vita un bullone un pezzo di tecnologia lieta i bollini dell'aesso che faceva Yahweh quando andava a mettere benzina al cavode il carico a batterie dell'iPhone che ne so niente di niente ma come diranno quelli che sono venuti a vedere questo video perché indignati dell'utilizzo del nome del loro profeta esattamente come farebbe un fanatico religioso e tutti gli opert tutti gli oggetti tecnologici nascosti dagli archeologi dagli accademici eh è semplice non ci sono quegli oggetti fuori posto trovati dagli archeologi e nascosti dagli accademici se i poteri forti avessero l'intento di nascondervi questi sconvolgenti verità voi non ne sareste a conoscenza non ci sarebbero link su Facebook per scoprire cose segrete ogni singolo reperto spacciato per opart ha una spiegazione spesso sono fake o spesso vi appaiono fuori contesto semplicemente perché siete ignoranti del contesto sì ma come hanno fatto a muovere quei mazzi di piede a quei grossi mazzi di piede eh come hanno fatto a incidere quelle piede durissime è impossibile perché voi conoscete i mezzi dell'epoca avete studiato quelle epoche e conoscete i mezzi che utilizzavano le loro tecnologie oppure avete sentito il vostro guru dire così e ripetete a pappagallo convinti di poter emulare negli altri quella stessa sensazione di stupore e ammirazione che quell'esternazione ha fatto in voi eh ci ho preso come facevano a muovere questi enormi massi di pietra impossibile ingegno applicato alla fisica tipo questo è solo uno dei tanti esempi con cui si possono muovere enormi massi di pietra senza l'ausilio della tecnologia moderna e vale anche per le incisioni ora ditemi me sentite un po' coglioni dopo averlo visto alieni non necessari esattamente come dio beh direi che possiamo finirla qui grazie per la visione di questo video grazie per esservi iscritti a questo canale grazie per esservi iscritti a questo canale oh clicca ringrazio di nuovo ringrazio di nuovo tutti quelli che supportano i miei video e fanno sì che questa parrocchia possa andare avanti grazie a francesco tripaldi a marco stefanutti a serena francesca b a michele cima a lorenzo venza andrea potugno anna rita rafaschieri grazie a letizia a carlo guada a vincenzo runco grazie a figgio roberti a valerio sempiterno grazie a santo droni a kel maya uomo surreale a the warfish b a b a fang grazie a wolfship giu grazie a grazie a coso grazie a marre grazie a giulia crespi grazie a carlo burei grazie a russola cultima grazie a francesco mazucase a peperone a tony beard a elisa sempre a stefano p grazie a pablo bardella grazie per esservi abbonati a questo canale a solo 1,99 euro al mese se volete approfondimenti sul tema della pala astronatica ma anche di biglino vi consiglio di seguire i link che vedete qui in descrizione ci sono tutte le live di faber lumiere del canale osa sapere la playlist di otto video del canale di wannabe buddha sull'abiglino story e ovviamente il canale youtube del dottor cuscito un ebraista e storico delle religioni link in descrizione appare che mi sono di carcazzo così però c'è una cosa che non vi ho detto di cui devo dare adito a biglino mauro in fondo fa solo finta che a parte quando pubblica i libri quelli vi vende davvero grazie a tutti Grazie a tutti.